Ciao, sono Luigi Di Turi, ADG Business Management e Marketing Manager. Oggi sono felice di introduire la nostra Smart Car Seat. Ciò che presentiamo qui è una storia successiva per la collaborazione tra tre parti. Un ricordatore di silicone, un servizio di soluzione ingegnere e il leader delle manufatture di soluzioni 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 di soluzioni. Ho esكرato per ovviamente la radicazione di soluzioni di soluzioni di soluzioni della poluzione di soluzioni di soluzioni di soluzioni realizzate in un'illusioneとかificale centrale e all'integrazione Qing Haupt. La canna Creditreamcast con la Brotherhood Supportione dell'Italia Radio che interrollano a Bangalore dall'innoi di soluzioni di soluzioni di soluzioni di soluzioni di soluzioni di soluzioni Kitt fluidamente. La Panna Creditre sudah in effetti che implementano ad sostegicios jets posizion drauf 몸ической la piscina di soluzioni di soluzioni di soluzioni companionamentali. La nostra santa smart carica può essere controllata via Bluetooth Low Energy per una app mobile che simula un pannello di infotainmento dentro del carro. I comandamenti che arrivano dalla app arrivano alla zona di domenica e sono trasformati via CAN bus alla unità di controllo elettrico, che si trova sotto la santa. DCU poi decodisce i comandamenti che ricevono dalla zona di domenica per fare un numero di funzioni di santa. Quindi, per esempio, abbiamo un controllo simultaneo dei DC motori. Un punto interessante è che abbiamo sensazione individuali di ogni motor che migliora il controllo del sistema per la sicurezza diagnostica e la sicurezza. Possiamo anche controllare la temperatura della santa con il modulo del calcio resistente. E, ovviamente, possiamo aumentare il comfort con il supporto lumbare, adattivabile con l'attivazione di pump. L'ultimo, abbiamo una strada di memoria un'attivazione che permette un'attivazione automatico per circa 4 diversi usi, quindi è completamente customizzabile. E questo è, ovviamente, inizia da una posizione di default per accesso di veicolo. Per più dettagli sull'ecosistema Autodevkit, visite st.com.autodevkit o download Autodevkit da st.com.autodevkit.sw